Quando ci chiediamo chi siamo, cosa rappresentiamo, ecco una finestra sul mondo dell'accoglienza che si apre. Siamo una famiglia che nel mondo beverage food ha creduto e investito. È un mondo il nostro che spesso viene ricepito come di contorno e non come protagonista della filiera turistica. Dietro una bottiglia di vino sul tavolo del ristorante, di un cocktail degustato al bar, di una selezione di distillati, di un piatto con ingredienti gourmet o anche la mise en place con colori naturali e i piatti in bagassa che rispettano l'ambiente e non inquinano, ci siamo noi. Noi che ricerchiamo prodotti, organizziamo eventi, studiamo e affrontiamo un mercato sempre più veloce nei cambiamenti e troppo spesso inquinato. Ci siamo noi che affianchiamo clienti partner nelle scelte e nella gestione dei propri locali. Ci siamo noi che organizziamo formazioni e degustazioni di prodotti condividendo conoscenza e nuovi metodi di servizio. Ci siamo noi che vi offriamo corsi riconosciuti FISA e vi facciamo addentrare nel mondo del vino con competenza. Ci siamo noi che mettiamo a disposizione di chi ama bere e degustare prodotti che provengono da tutti il mondo. Potremmo continuare all'infinito, ma preferiamo invitarvi alla scelta di un partner specializzato che vi affianca. Bevande di sanitario.